E questo a me pare allucinante, dopodiché c'è il Covid, bene, e copre tutto. Naturalmente i morti del Covid ogni giorno sono un quarto di quelli che muoiono di tumore, un terzo di quelli che muoiono di malattie cardiovascolari, eccetera, eccetera, ma non importa, c'è il Covid, basta, si muore solo di Covid e fine dei giorni. Scusi però, professore, questa cosa del Covid non riguarda... Dopodiché, bisognerebbe non intervistare cacciari, ma intervistare gli scienziati che dicono come stanno le cose, in alternativa alla scienza ufficiale di regime, a quelli che ritengono di avere la verità, ascoltare gli scienziati che pongono domande, problemi, premi Nobel, Melon l'ultimo, Melon l'ultimo, Premio Nobel, eccetera. Scusi, professore, visto che l'abbiamo qui e l'ha tirata in ballo, che cosa dicono quegli scienziati in alternativa a quella che lei ha definito la scienza di regime? Dicono, dicono, dicono un sacco di cose, dicono, che non ho il tempo di riassumere tutto. Beh, ce ne dica però quelle due più... Ma dicono un sacco di cose. La prima, che è una follia vaccinare sotto i 12 anni, una follia totale, questo lo dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, lo dicono pediatri, lo dicono medici, eccetera, eccetera. Perché? Perché tra tutti i contagiati del mondo sotto i 12 anni, la percentuale di morti è 1 su 10 milioni, tra i contagiati. Non esiste rischio per quelle categorie, non esiste. E quindi non credo che sia pensabile che io possa far correre dei rischi a una categoria di persone che non ne corre nessuna per conto proprio. Ma qui ancora non sono stati vaccinati nel nostro paese? Ancora non è arrivata... Bene, ma siccome sento voci folli che dicono che bisogna vaccinarli, mi auguro che queste follie vengono... E allora metto le mani avanti. Poi, nel Regno Unito, ormai le statistiche dell'Università di Oxford, eccetera, eccetera, un articolo recentemente uscito, ci dice che questo vaccino ha un'efficacia che va via via riducendoci perché non è un vaccino, tra l'altro, come bizzarri e altri illustri scienziati italiani hanno detto in un documento firmato da 12 orvi.